Come è la terza edizione del Master Accademico di secondo livello su diagnosi e terapia dei linfomi e malattie linfopoliferate? Che viene svolto in partnership tra l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Trieste e la Fondazione Italiana Linfomi. È un evento molto importante che permette a 15 discenti selezionati sul panorama italiano di partecipare a questo corso di formazione che permetterà di affrontare le principali tematiche in termini di diagnosi, inquadrazione del rischio e trattamento dei linfomi. Parteciperanno 15 discenti che verranno selezionati sulla base di criteri di valutazione del loro curriculum vitae che verranno a frequentare 8 settimane di lezione distribuite negli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020. Queste lezioni verranno svolte e distribuite tra Udine e Trieste. I discenti vengono appunto selezionati sulla base del curriculum vitae, mentre i docenti verranno selezionati sulla base delle loro expertise a livello europeo. Quindi strano sia i docenti italiani che i docenti selezionati a livello europeo.